Dai paesi alle città, miseria e povertà Lo chiamano progresso solo per pubblicità Patano e pandemia, oggi mangio a casa mia Quartieri popolari con famiglie in avaria Separati con cura, in un'epoca oscura Che semina l'odio e raccoglie la paura Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra Tra chi vive e muore nelle zone d'ombra La tecnologia ci ha reso migliori? Non sempre l'innovazione è associata a un concetto nobile Spesso e volentieri si pensa al cambiamento Come qualcosa di circoscritto e lontano dalla quotidianità Il viaggio di zone d'ombra questa settimana è un po' particolare Alterneremo le nostre interviste Movendoci tra il reale e il virtuale Per, diciamo così, respirare un po' di ambiente tecnologico Fino a non molto tempo fa Pensare a un'intervista televisiva in smart working Era quasi fantascienza Oggi si può E anche noi abbiamo portato all'interno di questa puntata Alcuni contributi di persone che ci hanno aiutato a capire Quanto la tecnologia ha cambiato le nostre vite Ma, soprattutto, se il cambiamento ha portato con sé Un miglioramento della quotidianità Sì, pronto Ciao Guido, come stai? Bene, bene, grazie a Dio, tutto bene Antonio ci aiuta a capire nello specifico Quanto la tecnologia gli abbia cambiato la vita Da classico imprenditore è diventato un consulente Ma lui ama definirsi un amico che dà consigli Un cambiamento che gli ha permesso di rimodulare la propria vita In termini di libertà È cambiato tantissimo Perché vedo anche negli occhi della mia compagna E di mio figlio La gioia di rivedermi più spesso Quindi di dedicarmi più tempo comunque a loro E anche comunque personalmente Antonio si definisce una persona in grado di dare consigli Ad amici e conoscenti Circa le opportunità che il libero mercato mette a disposizione Un professionista, insomma, che aiuta ad orientarsi nel mare delle offerte Da cui siamo bombardati ogni giorno E dando comunque una consulenza a tutti i miei conoscenti Un amico, in sostanza, che chiame con cui prendi un caffè Per avere le dritte su come risparmiare La cosa interessante è che tutto questo Antonio lo ha realizzato Grazie a delle start-up che si sono messe sul mercato E hanno dato la possibilità a tutti di usufruire dei propri servizi Porto avanti tre progetti molto ambiziosi Tra i progetti di cui parla Antonio c'è quello di Orospey Si tratta di una moneta complementare in grado di dare maggiore potere d'acquisto ai consumatori In sostanza il valore della moneta è pari al 30% in più rispetto all'euro Tra gli ideatori di questo circuito, Nino Galloni Economista, già direttore generale al Ministero del Lavoro e dell'Economia Dirigente industriale e sindaco effettivo dell'INAIL, dell'INPS e dell'INPTAP Galloni parte da un presupposto che è proprio quello tecnologico Abbiamo delle tecnologie e delle capacità produttive che 60 anni fa ci sognavamo Eppure qualcosa è troppo fermo, qualcosa non si muove Quindi abbiamo bisogno di iniziare un movimento dal basso Che può essere quello appunto della moneta complementare Galloni analizza la situazione drammatica dell'economia Specie nel post-Covid E delinea uno scenario futuro che potrebbe ridare grinta ai mercati e al benessere sociale La prima è l'introduzione di una moneta sovrana, cioè non a debito Che praticamente avrebbe lo stesso segno algebrico delle tasse Ovvero sia un qualche cosa che consentirebbe allo Stato, cioè alla comunità Di spendere quello che è necessario senza creare ulteriore debito La seconda è una pesante e profonda rivisitazione della contabilità bancaria Che consenta agli istituti bancari di fare prestiti ad elevato tasso di interesse nominale negativo La terza soluzione è la creazione di moneta complementare e di un circuito parallelo Qual è la differenza fra le prime due e la terza soluzione? Le prime due sarebbero molto efficaci ma comportano un cambiamento Che in questo momento noi non siamo in grado di garantire Finché non ci siano delle forze completamente diverse dalle attuali Che modifichino, che ribaltino la situazione politica Mentre la caratteristica della terza soluzione, cioè la creazione di una moneta complementare In un circuito parallelo è come dire conseguenza di un nostro attivarci Lo possiamo fare direttamente E c'è anche chi ha cominciato a fare queste cose In particolare nell'ambito del circuito che adesso ci sta ospitando CNC e Eurospay Si sta facendo un qualche cosa che comincia a risolvere il problema dell'argento Una proposta non di poco conto, visto che in qualche modo si teorizza l'attenzione verso le persone Non verso i poteri finanziari Dunque il focus è sulla moneta complementare Che parte, come spiega uno dei fondatori, Leonardo Leone Che insieme a Galloni e all'economista Vito Vavalli Hanno creato Eurospay Da una cruda fotografia della realtà Dal 2002 a oggi il costo della vita sta rincarando di anno in anno Se tu guardi l'autostrada in dieci anni è quasi raddoppiata Il costo delle sigarette, il costo di tutto Insomma è aumentato sostanzialmente tutto Guardi le materie prime o prodotti per esempio per fare la spesa Dalla frutta, dalla carne al pane aumenta tutto Quindi quando ci parla di inflazione L'inflazione non è altro che l'andamento dei costi Dell'alzamento dei costi Realmente dicono che non c'è, ma c'è Quella che è la situazione attuale proprio oggi Dal 2020 in poi riguardo le aziende Ovvero il rischio che 390.000 aziende in questo 2021 chiuderanno Ovviamente 2 milioni di posti di lavoro sono a rischio E tutto quello che sostanzialmente ci spaventa di più È che altre 70.000 aziende rischieranno di chiudere entro la fine del 2021 Vuol dire che nel totale tra il 2020 e la fine del 2021 Potrebbero andarsene il mezzo milione diciamo di aziende Che sono il 10% delle aziende Le aziende realmente sono circa 6 milioni In pratica la soluzione è quella di ridare valore alla moneta Tu apri un conto presso la Cassa Nazionale Complementare E immediatamente hai un 30% sul tuo conto Cosa significa che mettendo sul tuo conto 100 euro Hai subito da spendere all'interno del circuito 130 Subito, non domani, tra un anno, tra sei mesi Una soluzione che, come ci spiega il professor Vito Vavalli Era già scritta nei libri di storia Ci aveva già pensato addirittura Marx, Keynes Ci avevano pensato in molti Ma nessuno lo aveva fatto Perché non conviene al sovrano di spossessarsi di uno strumento Che gli consente di fatto di condurre la danza E di portare nelle sue tasche i risultati del nostro lavoro Questo è il problema vero E questo è il concetto di moneta debito Un progetto reso possibile evidentemente grazie alla tecnologia E in qualche modo anche alla comunicazione Un'idea che ricalca, con i dovuti distinguo, quella del professor Jacinto Auriti Qual è la soluzione del problema? Il problema va risolto alla radice Quando noi abbiamo detto Dobbiamo creare un reddito monetario di cittadinanza Con una moneta alternativa Noi come sindacato antiusura Abbiamo cominciato a emettere il CIMEC E' nato di carta il CIMEC Però è nato con una vivacità Con un entusiasmo Con una validità Che ha impressionato le autorità costituite Come tutti sanno Guardia Grele è stata circondata da 120 uomini Sono venuti a casa mia Mi hanno sequestrato i CIMEC Che noi facciamo circolare Io ho salvato della gente dalla disperazione L'idea di Vavagli è quella di salvare le stesse persone dalla povertà Ma con l'ausilio della tecnologia Aiuta tantissimo Soprattutto chi Soprattutto chi ha più bisogno Ed è il concetto di MUNUS Tu hai più bisogno Ti devo dare più moneta Ma dice Ma io poi come fa Tu hai bisogno Usa questa moneta Per fare ciò che hai bisogno di fare Chi oggi ha più bisogno? Sicuramente le famiglie hanno più bisogno Le micro imprese E spesso le due cose coincidono Quante piccole imprese Fanno capo a una famiglia Due famiglie al massimo Questo è un fatto Che noi dobbiamo comprendere E allora abbiamo creato Una moneta complementare Non a debito Che si differenzia molto dalle altre Che cosa fa questo modello? Semplicemente Dà più potere di acquisto Ai cittadini Ai consumatori I quali innescano Portano Fanno da volano Sulle imprese Piccole imprese Imprese di minori dimensioni Che entrano nel circuito E propongono I loro beni e servizi Di qualità L'innovazione tecnologica Come abbiamo visto Diventa protagonista Della nostra vita Rimodulando Diciamo così Convinzioni e credenze Abbatte stereotipi E va direttamente Al punto della questione Nel nostro caso Alla risoluzione Del problema Della povertà Lasciamo dunque Antonio Al suo lavoro E cerchiamo di capire Quale altro aspetto L'innovazione Ha contribuito a reinventare Sicuramente il progresso Tecnologico È continuo E io sono anche Innamorato di questo progresso Però bisogna dire Veramente Le cose come stanno E quindi mi piace citare Henry Ford Che dice Che il progresso È quando i vantaggi Della tecnologia Vengono apprezzati E goduti Da tutti Innovazione Credo proprio Che sia questo Quando questo progresso Incide realmente E speriamo Positivamente Sulla vita Delle persone Enrico si occupa Di produzioni Multimediali L'innovazione Nel suo caso Gli ha portato Una profonda Rimodulazione Nel campo lavorativo Dalla classica Telecamera professionale È passato Allo smartphone Cambiando Anche il tipo Di linguaggio Questo linguaggio Il video Che è stato Per anni È solo Orizzontale Oggi Va in verticale Oggi con i social Nasce un formato Che prima Non esisteva Quindi cambia tutto Cambia il contenuto Il contenitore Cambiano Le informazioni Che si vengono A dare Con il video E cambiano E cambiano anche Le persone Perché piano piano Da homovidens Diventiamo tutti Homo Media Non lo so Il termine Non lo so Però è questo Non siamo più Tutti Spettatori Ma possiamo dire La nostra L'innovazione Ha portato Sicuramente L'esplosione Di fenomeni Come gli influencer Ma di sicuro Il contenuto Si è imposto Spesso Quando ha rappresentato Un'idea originale E innovativa Mi piace citare Un solo esempio Quello di Valentina Perniciaro Con la sua pagina Sirio e i tetrabondi Dove racconta Le avventure Di suo figlio Che purtroppo Ha dei problemi Molto seri E che Iniziando con foto E video Del suo bimbo E con dei post È arrivata Persino A fondare Una fondazione A diventare L'influencer Dei Traparesi Sirio ha 8 anni Ed è sopravvissuto A un episodio Di morte in culla Da neonato Convive con Una tetraparesi Spastica E una paralisi Cerebrale Sui social La mamma Valentina Perniciaro Racconta Le sfide quotidiane Che deve affrontare E la sua ricerca Di felicità L'obiettivo È quello Di raccontare La disabilità Attraverso Lo sguardo Dei disabili Con i loro bisogni I loro desideri La loro ricerca Di felicità Uno e due Con quei piedi Valentina Perniciaro Ha dato vita Agli account social Diventati virali Sirio e i tetrabondi E lo fa come se A parlare fosse Sirio In prima persona Sirio nasce Prematuro Dieci settimane Prima del termine Quando viene ricoverato In semi intensiva Gode di un'ottima salute Viene dimesso Un mese prima Della data Presunta Della nascita Quando non pesa Ancora nemmeno Due chili Otto giorni dopo Il suo cuore Si ferma E per mezz'ora Rimane senza ossigeno Viene rianimato Ma si trova In uno stato di coma Da cui per i medici Non uscirà più Nel frattempo Si rende necessaria Anche la tracheostomia Quello che si prospetta Per Sirio È un futuro In stato vegetativo E invece Le cose Sono andate diversamente Per fortuna Grazie alla ricerca Sono possibili Tre tipi di interventi Trattamento neurochirurgico Terapia farmacologica E riabilitazione motoria Abbiamo portato In un'altra Delle mie aziende Un'innovazione A livello Di concetto Perché Il modello di business Che era stato utilizzato Fino ad oggi Lo abbiamo voluto Completamente rivoluzionare Ed innovare Sto parlando Di mobilità elettrica Di mobilità sostenibile Uno dei temi E degli argomenti Di maggiore attualità In questo momento Stefano è un imprenditore Che lavora da sempre Sul tema dell'innovazione In questo nostro viaggio Particolare Gli abbiamo chiesto Cos'è per lui Appunto L'innovazione Nella mia esperienza Imprenditoriale Ho cercato di portare All'interno delle mie aziende Diversi tipi di innovazione Come ad esempio Le innovazioni di processo Che ho portato All'interno Della mia prima azienda Di tipo alimentare Questa innovazione Ci ha permesso Di produrre Alimenti Funzionali Alimenti Che hanno portato All'interno Delle diete Dei nostri clienti Dei valori Nutrizionali Migliori Rispetto a quelli Che venivano utilizzati In precedenza All'interno di un altro Dei miei progetti Abbiamo deciso Di affrontare Quelli che erano I problemi nutrizionali Dei nostri pazienti Dei nostri clienti Da un punto di vista Completamente diverso Affrontandoli Con un metodo Che non era stato Utilizzato fino ad oggi Che era quello Di squadra Per esempio Nell'esperienza Di NutriMedic Affrontiamo Il problema Nutrizionale Con un pool Di esperti Che può affrontare Il problema A 360 gradi Sia dal punto di vista Medico Che dal punto di vista Motorio Non solo dal punto di vista Nutrizionale Come si è fatto Fino ad oggi L'innovazione dunque Entra soprattutto In quelle aziende Che credono nel futuro E che fanno continua ricerca L'innovazione Come sinonimo Di attenzione Alla salute delle persone In un contesto più green Come appunto La mobilità All'interno di questo settore L'innovazione Ha riguardato proprio Il modello di business Che abbiamo rivoluzionato Completamente Rendendolo Assolutamente Liquido Leggero Senza costi fissi Questa innovazione Ovviamente Come potete immaginare Ha permesso Alla nostra azienda Di crescere In maniera molto Più libera E più veloce Senza tutti quei rischi Imprenditoriali Che sono collegati Al fare impresa oggi Questo Solo per portare Alcuni esempi Di come L'innovazione Non sia soltanto L'utilizzo Di uno strumento Tecnologico Ma possa essere Un qualcosa Che vada A rivoluzionare Completamente L'idea Dalla quale parte Portando Di vantaggi Completamente diversi Completamente nuovi E che cambino Il risultato finale I primi sei mesi Del 2021 Sono stati Caratterizzati Da un progressivo Ritorno Alle performance Precedenti La crisi pandemica I dati più recenti Sui servizi Della sharing mobility Italiana Hanno offerto Un quadro chiaro Di ciò che sta Accadendo in questo Momento nel settore Altro dato interessante È che 6 italiani Su 10 Sono pronti Ad utilizzarlo Regolarmente La sensazione La sensazione A questo punto È che gli attori In campo Siano pronti Alla sfida verde Ma che la politica Come spesso accade Non sia in grado Di garantire Il cambiamento Del car sharing I vari governi Ne parlano Almeno dagli anni 90 In un decreto Dal nome Mobilità sostenibile In ambito urbano Del 1998 L'allora governo D'Alema Voleva fronteggiare L'emergenza benzene Edo Ronchi A capo dell'ambiente Mise sul piatto 8,5 miliardi di lire Per finanziare Progetti pilota Nelle città italiane A distanza Di oltre 20 anni Lo stesso Edo Ronchi È costretto Ad ammettere che Le emissioni mondiali Di gasserra Dopo 3 anni Di stabilità Sono cresciute 1,6% In più Nel 2017 Addirittura 2,7% Nel 2018 Siamo arrivati A un livello Record Di 37,4% 1,1 giga Cioè miliardi Di tonnellate Veramente È un livello Altissimo Creare nuovi posti Di lavoro In particolare Per i giovani Questo è un punto Cruciale E dobbiamo puntare Ad avere un benessere Più esteso E di migliore qualità Attenzione Alle crescite Che non migliorano Il benessere E non sono Equamente distribuite Questo è un grande Problema Delle nostre economie Il nostro viaggio Sull'innovazione Termina con una Chiacchierata Con un giornalista E scrittore Figure che Dall'avvento Tecnologico Sono state Travolte E obbligate A ritarare Diciamo così Il proprio lavoro Sulle nuove tecnologie La tecnologia Ha contribuito In maniera Almeno parlo Comunque Per quanto mi riguarda In maniera netta Divezzando i tempi I costi anche E diciamo Anche tanta Tanta fatica Dove sicuramente Quel tempo Viene speso Per Per riuscire A realizzare Magari altri Articoli E si spera Anche buoni articoli Basti pensare A come prima Un giornalista Che era pronto Per pubblicare Un pezzo Doveva comunque Passare per tanti step E' chiaro che A livello pratico E organizzativo La tecnologia Ha aiutato di molto I creatori di contenuti Ma la domanda Altrettanto interessante è C'è la possibilità Che l'intelligenza Artificiale Con quegli algoritmi Imparino Anche A creare Ad avere ispirazione Sì E' possibile Io non metto Limiti Alla scienza Anche perché Solamente qualche anno fa Sarebbe stato impensabile Immaginare Dove saremmo arrivati Nel giro di vent'anni Con i cellulari Insomma Quindi lo metto Limiti a questo Però Il limite Secondo me C'è quando si parla Dell'animo Dell'ispirazione Romantica Dell'ispirazione Insomma No Lì Secondo me Non c'è Non può Ecco Essersi Algoritmo Che possa sostituire Questo Tranne se Un algoritmo Che comunque Scopiazza E questo è possibile Altre Sensazioni Umane Questo sì Ma Può essere un copia In colla Di situazioni Già vissute Nel 2015 Alcuni ricercatori Hanno osservato Un'anomalia bizzarra Sul loro schermo Del computer Stavano addestrando Roboi in un ambiente Simulato Per adattarsi A camminare Nel caso Le loro gambe Fossero state Danneggiate Quando hanno cercato Di trovare Il minimo contatto Con il terreno Necessario Al robot Per camminare Avevano trovato Un valore impossibile Il computer Aveva calcolato Che il robot Poteva camminare Con lo 0% Di contatto Dei piedi Con il terreno Come potrebbe Un robot Camminare Senza aver toccato Terra Si sono chiesti Gli scienziati Il computer Aveva scogitato Un'andatura In cui Esso stesso Poteva investirsi E camminare Usando le sue Articolazioni Del gomito Riducendo così Il contatto Dei piedi A zero L'intelligenza artificiale Aveva trovato Una soluzione creativa Per camminare Senza i suoi piedi Insomma Una soluzione Unica Di per sé L'intelligenza artificiale È stata creativa In questo caso? Con questa domanda Ci lasciamo Dopo averci goduto Questo balletto E ridiamo la parola A Cuba Cabal Ma prima Vediamo cosa ci aspetta La prossima settimana Nell'angolo Della vostra mente Tra le cose Da fare Il giorno dopo I still have a dream It is a dream Deeply rooted In the American dream I have a dream That one day Dai paesi alle città Misterio e povertà Lo chiamano progresso Solo per pubblicità Patane pandemia Oggi mangio a casa mia Quartieri popolari Con famiglie in avaria Separati con cura In un'epoca oscura Che semina l'odio E raccoglie la paura Tra chi ci si vende Tra chi ci si compra Tra chi vive e muore Nelle zone d'ombra E fazglie le città In un'epoca o I like A C